Italo Cucci, da oggi qui alla cantina Zaccanini parte il premio Presco 2017. Eh sì, questa annuale ritrovarsi, fra l'altro è un piacere solamente far parte di questa compagnia. E poi ti devo dire che diventa ancora più divertente perché finalmente le nostre decisioni nascono quasi spontaneamente. Abbiamo avuto dei periodi di ricerca e di dibattito, mentre adesso sta andando tutto molto bene dal punto di vista tecnico. Abbiamo allenatori, abbiamo giocatori, probabilmente non è vero, anzi sicuramente non è vero che siamo l'ultima ruota del carro in Europa, perché possiamo esibire, come vi potrò dire dalle scelte che abbiamo fatto oggi, che se uno ha come giocatore, io mi auguro, uno come Di Bala, come allenatore, uno come Gasperini, come presidente abbiamo questo fenomeno di ex calciatore dell'Atalanta che all'improvviso si compra la società, la fa tornare grande e grande scuola di giovani calciatori come è per Cassi. Poi la ciliegina è Riccardo Cucchi, che purtroppo così, io lo facevo molto più giovane, non da pensione. Lui ha pensato di ritirarsi, però quest'anno ci siamo divertiti in giuria moltissimo.